Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo la nostra seduta di commissione con le interrogazioni a risposta immediata su questione di competenza del Ministro della Cultura. Comunico che la pubblicità della nostra seduta sarà assicurata anche attraverso la web tv della Camera dei Deputati. Ricordo che ai sensi dell'articolo 135 tercoma 5 del regolamento il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti. Saluto la sottosegretaria Borgonzoni che oggi è qui con noi e segue i lavori. cominciamo con l'interrogazione 5 06 022 a Prea sul rinnovo delle nomine delle commissioni consultiva per il teatro. L'onorevole Cascello illustra l'atto. Aspettiamo per le altre un minuto per le fotocopie. Prego onorevole Cascello a lei la parola. Grazie Presidente. Saluto il sottosegretario Borgonzoni. Allora noi abbiamo presentato l'interrogazione perché nelle recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro interrogato e cioè il Ministro Franceschini riportate alla stampa sono stati annunciati interventi al sostegno dello spettacolo all'aperto e in particolare del teatro all'aperto evidenziando il ruolo fondamentale di queste strutture per far ripartire il settore dello spettacolo dal vivo e richiamando il ruolo che i teatri antichi possono ricoprire. Con decreto 610 del 2021 sono stati ripartiti i fondi del Fondo Unico per lo Spettacolo 2021 destinati alle attività teatrali, ai festival che si svolgeranno quasi tutte d'estate all'aperto e destinati a una quota che però non arriva allo 0,9%, poco più di 600 mila euro su un complessivo di quasi 80 milioni di euro, che certo non ci sembra una cifra utile a esercitare l'impulso necessario, della quale tra l'altro non si conoscono le modalità di assegnazione se sono previsti bandi. A un mese dalla scadenza della presentazione delle domande per il Fondo Unico per lo Spettacolo 2021 ancora non si sa nulla sulla valutazione dei progetti presentati e il timore che anima gli operatori è che tra gli interventi annunciati possano favorire proprio coloro che hanno già ricevuto i fondi del FUS, così da sacrificare quanti non hanno ricevuto risorse adeguate o non ne hanno ricevuto affatto. Al Sud vengono normalmente destinate risorse infinitamente inferiori rispetto al centro-nord. Nonostante sia stato considerato un grande contenitore di spazi monumentali e non solo, spazi che a fronte di adeguata cura e manutenzione potrebbero diventare sede naturale di una programmazione di attività culturali intesa nella più ampia accezione che agirebbe da rilevante supporto allo sviluppo del turismo culturale. A tal fine sarebbe certo utile prevedere una sorta di bonus specifico di ordine finanziario. Le decisioni della Commissione consultiva per il teatro, competente a dare la valutazione della qualità artistica dei progetti, con conseguenze sulla ripartizione dei finanziamenti, hanno determinato a quanto costa, a noi che abbiamo presentato l'interrogazione, tante proteste e molti danni, in particolare agli enti pubblici e privati del mezzogiorno. Quindi chiediamo se non si ritenga di dover adottare iniziative di competenza per prevedere il rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro che è in carica dal 2018, considerato che esistono certamente personalità autorevoli nel panorama nazionale che possono svolgere tale funzione e posto che tale commissione al momento è composta in maggioranza di esponenti della burocrazia ministeriale e non del mondo dell'arte e dello spettacolo. Grazie. Grazie a lei, onorevole Cascello. Prego, sottosegretaria, a lei la parola. Grazie, Presidente. Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo alla richiesta di prevedere il rinnovo della Commissione consultiva per il teatro, competente nella valutazione della qualità artistica dei progetti che concorrono al finanziamento a valere dal fondo unico dello spettacolo si rappresenta quanto segue. In via preliminare è opportuno precisare che il riferimento agli interventi a sostegno dello spettacolo all'aperto è attualmente allo studio del Ministero una misura da finanziare a valere dal fondo emergenziale spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo ottantanove del DL Curitalia volta a sostenere in questa fase di ripartenza delle attività la programmazione degli spettacoli dal vivo all'aperto. Per quanto riguarda invece la gestione del FUS duemila e ventuno si evidenzia che la competente direzione generale spettacoli in data undici maggio duemila e ventuno ha avviato l'erogazione fino al sessantacinque per cento del contributo riconosciuto per l'anno duemila e diciannove delle anticipazioni a favore degli organismi già finanziati nel triennio duemila e diciotto duemila e venti. A metà marzo duemila e ventuno inoltre la medesima direzione aveva anticipato circa l'ottanta per cento della quota FUS di settore alle fondazioni lirico-sinfoniche per un importo pari a cento quarantacinque virgola tre milioni di euro. Relativamente alle nuove istanze FUS per l'anno duemila e ventuno da parte di organismi che non hanno ottenuto contributi nel triennio duemila e diciotto duemila e venti la direzione generale ha ricevuto circa mille e cento nuove domande di contributo. Nelle more dell'istruttoria amministrativa delle istanze pervenute è stato consentito alla commissione costruttiva l'accesso alle istanze pervenute nel portale FUS online. A tal fine è stato convocato per il prossimo venti maggio duemila e ventuno il consiglio superiore dello spettacolo chiamato a pronunciarsi sul riparto del FUS destinato alle nuove istanze per un importo pari a trentadue virgola cinque milioni di euro. Successivamente si procederà con l'adozione dei provvedimenti di riparto. In tal senso la commissione consultive si riuniranno tra fine maggio e inizio giugno per rendere il parere sui progetti speciali pervenuti entro il nove aprile di quest'anno e entro fine giugno per la valutazione delle nuove istanze per l'anno duemila e ventuno. Relativamente alla commissione consultive competenti in materia di spettacolo esse sono composte ai sensi dell'articolo due comma due del DM del dodici febbraio duemila e quattordici da esperti altamente qualificati nelle specifiche materie di competenza di ciascuna delle commissioni selezionate con interpello pubblico nel sito web del Ministero della Cultura. Per l'anno duemila e ventuno al fine di poter garantire senza soluzioni di continuità la prosecuzione delle loro attività anche alla luce della situazione emergenziale la commissione consultiva in materia di spettacolo sono state prerogate fino al trentun duecenti dicembre duemila e ventuno con decreto ministeriale del trenta dicembre duemila e venti numero seicento sedici. Poi io aggiungo che ovviamente su tutta la questione del riparto FUS e del FUS dovremo aprire una grande discussione sulla questione dei criteri io questo lo sostenevo già da sottosegretario nel conte uno e credo che ora superato questo momento di emergenza che ci ha portato andare in proroga su tante cose eh sarà una discussione che comunque dobbiamo aprire anche nelle commissioni e valutare per cercare di aiutare più persone possibili e non creare delle disparità che a oggi comunque si possono riscontrare. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Cascello può replicare. Prego. Eh grazie presidente. Voglio ringraziare il sottosegretario Borgonzoni soprattutto per la parte finale del suo intervento che ci tranquillizza rispetto anche a quanto disposto dagli uffici perché nella risposta forniteci eh non faceva altro che aumentare le nostre personali preoccupazioni perché se il 65% di quanto è già erogato è andato a enti che tra l'altro non hanno dovuto si capisce perché c'era la pandemia nemmeno contabilizzare e dimostrare quanto eh tra l'altro non avevano potuto realizzare e portare in scena e quindi la preoccupazione è che vengano ancora una volta tagliate fuori tutte realtà tra cui probabilmente sicuramente le famose mille cento di cui fanno parte delle mille cento richieste che eh sono saranno ora all'esame della commissione. Eh quindi chiediamo che da questo punto di vista ci sia un'attenzione forte che non si sottovaluti la grande potenzialità del del mezzogiorno che proprio per sua natura ha strutture che in questo periodo di pandemia possono favorire la ripresa forte dello spettacolo non penso sulla Taormina, penso eh alle arene, penso anche alla valutazione di dover recuperare l'arena di di come momento di spettacolo l'arena di Pompei, penso a Pestum, penso a tante di queste realtà eh che non sono solo nella mia campania ma sono in Puglia, sono anche anche in in altre realtà come ad esempio anche la Basilicata. Quindi a questo punto di vista mi attendo che eh come diceva il sottosegretario alla alla fine della della risposta ci sia un grande dibattito sui criteri attribuzione eh del dei fondi del FUS e che alla fine della deroga del trentuno dicembre duemila duemila e duemila e duemila e duemila e duemila e duemila della Commissione con eh tenendo tenendo presente non solo il mondo puro autorevole e burocratico di settore quanto piuttosto anche esponenti autorevoli del mondo della cultura, dello spettacolo ed altro che sicuramente hanno esperienze dirette e possono dare un contributo fondamentale per l'individuazione dei criteri e l'attribuzione dei fondi. Grazie. Grazie a lei onorevole Cascello. Passiamo all'interrogazione cinque zero sei zero diciotto Mollicone sulla rispesa per consulenza del teatro di Roma. Prego onorevole Mollicone. Grazie presidente, grazie sottosegretaria Borgonzoni. Eh i fatti qui esposti sono di un'estrema gravità e abbiamo presentato questo question time a seguito di anche di accesso agli atti e atti di sindacato ispettivo del l'onorevole De Priamo in consiglio comunale. Stiamo parlando del teatro nazionale di Roma, il teatro argentina. e della sua assoluta opaca gestione da parte del presidente Bevilacqua, del CDA con l'unica eccezione del rappresentante del ministerio che ha sempre votato contro i bilanci e le scelte fatte dal CDA, di un consulente corsetti che era artistico corsetti e che era stato assunto come direttore e poi è stato cacciato per manifesta incapacità e riassunto come consulente artistico del subconsulente artistico Corona che attiene al teatro India e che viene assunto non si sa con quale eh con quale compiti e tutto questo in un quadro in cui i revisori dei conti come denunciato dal Tempo, dal Corriere da Sera, dal Messaggero, da Repubblica, da tutti i giornali continuano a dare assegnazioni, consulenze, poltrone e a lasciare chiuso colpevolmente il teatro Valle. Noi su questo abbiamo fatto questo question time e chiediamo quindi ora al ministero eh quali atti perché fa parte del CDA come assemblea dei soci e del CDA come assemblea dei soci quali atti intenda intraprendere per riportare la legalità. Grazie. Grazie a lei. Prego sottosegretario. A lei la parola. Grazie presidente. L'associazione Teatro di Roma è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro ai sensi degli articoli quattordici e seguenti del codice civile i cui soci fondatori sono Roma Capitale, la regione Lazio e la città metropolitana di Roma Capitale. Nei confronti della suddetta associazione Ministero della Cultura non esercita alcun potere di vigilanza. L'associazione rientra tra gli organismi sovvenzionati a valere dal Fondo Unico per lo Spettacolo in quanto organismo teatrale a cui è stata riconosciuta la collocazione nel settore dei teatri nazionali. Per tale ragione uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione sono disegnati dal Ministero della Cultura. Tutto ciò promesso in merito alle questioni contenute nell'interrogazione acquisiti gli elementi della competente direzione generale spettacolo si rappresenta che con nota 23 novembre 2020 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Teatro di Roma ha portato a conoscenza del Ministero dei Soci Fondatori alcune criticità emerse a seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del predetto ente. Stante la particolare gravità dei fatti denunciati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione con nota del 24 novembre 2020 la Direzione Generale Competente ha richiesto alla Procura regionale della Corte dei Conti di valutare l'esistenza di eventuali profili di un potenziale danno erariale nelle evidenze rappresentate dal suddetto organo di controllo. A seguito di successiva interlocuzione con il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione la Direzione Generale ha inviato alla Procura regionale della Corte dei Conti ulteriori integrazioni documentali con note del 2 dicembre 2020 e del 22 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021 e del 20 aprile 2021. Con nota del 25 febbraio 2021 la Direzione Generale ha segnalato le criticità emerse al segretario generale che con successiva nota dell'otto marzo 2021 ha chiesto al Ministero dell'Economia e della Finanza Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica una verifica ispettiva presso l'Associazione Teatro di Roma finalizzata a accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della suddetta associazione. In tal senso per le vie brevi il Ministero dell'Economia e della Finanza ha dato assicurazione ai fini della verifica richiesta. La situazione descritta è pertanto monitorata dalla Direzione Generale Spettacolo nei limiti consentiti dalla norma vigente. Il Ministero comunque in quanto socio contribuente assicurerà che la scelta del direttore selezionato rispetti i requisiti previsti per tali incarico e che possa avere anche una natura eh esperienziali strutture teatrali nazionali. Il Ministero in ogni caso non può non auspicare che una tale prestigiosa istituzione nazionale si doti quanto prima di un'adeguata direzione artistica e amministrativa al fine di superare l'attuale situazione di criticità. Grazie sottosegretario. Onorevole Mollicone può replicare. Prego. Grazie presidente. Grazie sottosegretario. Siamo molto soddisfatti. Sembrerà inaudito per i colleghi della maggioranza ma siamo molto soddisfatti di questa risposta e avevamo premesso che il rappresentante del MIC aveva votato contro il bilancio. La notizia colleghi forse è passata inosservata ma che il Ministero a seguito delle relazioni dei revisori dei conti ha mandato tutto alla Corte dei Conti confermando le denunce di Fratelli d'Italia rispetto a una gestione assolutamente eh insensata non trasparente ai limiti del danno erariale e sulla scelta del direttore che è stato fatto rinunciare perché non aveva i requisiti Pinelli come denunciato da Fratelli d'Italia adesso siamo ancora alla scelta di un altro direttore che qualcuno voleva prendere all'interno non esaurendo la manifestazione di interessi che il teatro ha fatto e deve fare per legge e che vede essere arrivato secondo chi aveva i requisiti e cioè eh il dottor De Fusco che è uomo peraltro di teatro. In tutto questo oggi pomeriggio ci sarà di nuovo il CDA con il presidente Bevilacqua con eh i consulenti artistici Corsetti e Corona e con colleghi anche questo lo denunciamo in questa sede un consigliere del CDA che è un magistrato della Corte dei Conti e che la dottoressa Rummo e che ci chiediamo come faccia un magistrato della Corte dei Conti a sedere eh su un organo su cui la Corte dei Conti vigila dal momento che non si tratta di un'associazione culturale sì di natura come ente privato ma con codice ISTAT quindi e contributo cento per cento pubblico con milioni di euro di bilancio e quindi probabilmente la Corte dei Conti ha dato su interpello la facoltà di partecipare alla dottoressa Rummo a questo CDA senza sapere che non era l'associazione per la riscoperta delle tradizioni popolari del 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 Trasimeno inferiore ma che era un'associazione di un teatro a cento per cento contributo pubblico con milioni di euro con assegnazioni di bandi affidamenti diretti consulenze e quindi riteniamo che sia il suo ruolo incompatibile e su questo segnaliamo anche al sottosegretario Borgonzoni di fare piena chiarezza siamo soddisfatti e concludo ma chiediamo trasparenza chiediamo che il presidente bevi l'acqua eh probabilmente eh eh diciamo ha fatto strame sia delle leggi sia del delle diciamo della sua della sua potestà di nomina rimetta il mandato e che finalmente arrivi legalità e trasparenza e sicuramente un direttore artistico e vigileremo su questo che abbia i cinque anni previsti dalla normativa nazionale e che non sia probabilmente che non sia in conflitto di interesse e con altre eh incapacità come per esempio eh incompatibilità come per esempio la legge Madia. Su questo vigileremo ma non finisce qua. Questo è solo l'inizio e verificheremo anche cosa farà l'ANAC e la Corte dei Conti. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione cinque zero sei zero diciannove Toccafondi sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Prego onorevole Toccafondi può illustrare l'atto. Sì grazie presidente darei per letta l'interrogazione. Allora passiamo alla risposta del sottosegretario prego. Grazie presidente con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante relativo alla richiesta di conoscere l'ammontare di contributi ai tempi di erogazione per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze si rappresenta quanto segue l'intervento relativo alla riqualificazione dello stadio compreso tre progetti inseriti nel piano strategico grandi attrattori culturali nell'ambito del piano nazionale di riprese resilienza. Le risorse destinate a tal intervento che fanno parte del fondo complementare finanziamento attraverso lo scossamento pluriannale di bilancio che è stato deliberato dalla Camera il ventidue aprile ammontano a novantacinque milioni di euro a cui si aggiunge la somma di tredici milioni da parte del Comune di Firenze. I tempi di erogazione delle risorse saranno definiti in coerenza con l'attuazione del PNRR tenendo altresi conto del crono programma del Comune di Firenze che viene articolato eh come segue poi lei ha anche lo schema gli è già stato consegnato la fase uno adeguamento statico che è già in corso gennaio duemila e ventuno settembre duemila e ventuno la fase due miglioramento sismico che eh iniziava gennaio duemila e venti settembre duemila e ventuno la gara ottobre duemila e ventuno marzo duemila e ventidue realizzazione dell'opere aprile duemila e ventidue aprile duemila e ventitré riqualificazione integrale della struttura maggio duemila e ventuno dicembre duemila e ventuno che era concorso di progettazione questo completamento progettazione gennaio duemila e ventidue aprile duemila e ventidue acquisizione autorizzazioni marzo duemila e ventidue aprile duemila e ventidue gara maggio duemila e ventidue dicembre duemila e ventidue realizzazione collaudo partirà gennaio duemila e ventitré e si vedrà la fine entro dicembre duemila e venticinque grazie sottosegretario onorevole toccafondi a lei la replica prego sì grazie presidente ringrazio sottosegretario ringrazio anche il ministero per per la risposta mi dichiaro soddisfatto lo stadio franchi è stato progettato nel milenovecento ventinove dall'ingegner luigi nervi ed è un bene artistico eh tutelato in quanto di alto valore storico artistico architettonico come sottolineato da tutte le sovrintendenze negli ultimi mesi anche ribadito e dallo stesso ministero in quanto patrimonio culturale da tutelare eh è entrata l'esigenza non di interventi del privato ma del ministero dei beni culturali e del proprietario cioè del comune di Firenze per questo è entrato all'interno del piano nazionale di ripresa e di resilienza a questo punto la domanda e l'interrogazione ha avuto una risposta sia nella conferma delle risorse sia soprattutto nel cronoprogramma perché chiaramente essendo un impianto sportivo ha anche una funzionalità diciamo settimanale oltre che un bene eh storico artistico da tutelare e la risposta da un cronoprogramma una cronologia compatibile con le esigenze diciamo di tutte le settimane grazie. Grazie a lei onorevole Toccafondi passiamo all'interrogazione cinque zero sei zero venti di Giorgi sull'impiego delle risorse del piano nazionale cinema immagini per la scuola illustra l'onorevole Piccoli Nardelli prego grazie presidente grazie sottosegretaria eh la nostra interrogazione fa riferimento a due testi di legge alla centosette del duemila quindici che metteva il linguaggio cinematografico la storia l'estetica del cinema tra gli obiettivi del piano dell'offerta formativa della scuola di ogni ordine grado e la legge quattordici novembre duemilasedici la duemila la duecentoventi sulla disciplina del cinema e dell'audiovisivo che tenendo appunto conto di quelle che erano state le premesse della centosette definiva un piano nazionale cinema immagini per la scuola che eh aveva eh un importo complessivo previsto pari ad almeno il tre per cento della dotazione del fondo per il cinema e l'audiovisivo quindi una cifra consistente che doveva essere spesa per diffusione delle immagini produzione alfabetizzazione ai media e eh produzione e diffusione ehm sottosegretaria eh tenendo conto di quello che è il momento della pandemia eh la crisi che hanno attraversato le scuole i ragazzi eh pensiamo che eh questo piano nazionale cinema immagini per la scuola abbia una dimensione e uno spazio che può essere estremamente importante quindi vorremmo sapere eh come eh è stata spesa questa cifra e che tipo di progetti sono stati realizzati eh come è stata distribuita attraverso il nostro paese nei diversi ambiti nelle diverse regioni e quali sia il numero complessivo di alunni e di studenti coinvolti eh naturalmente per capire come utilizzare al meglio per il futuro questo stanziamento grazie onorevole piccoli Nardelli prego sottosegretario può replicare può illustrare grazie grazie presidente ringrazio l'interrogante il piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso congiuntamente dal MIC e dall'istruzione prevede l'ideazione e la realizzazione di strumenti didattico educativi ed iniziative di sensibilizzazione e formazione degli studenti e delle studentesse attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo finalità strategiche del piano e dunque l'inclusione nelle scuole di ogni ordine grado del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di in grado di facilitare l'apprendimento ed essere utilizzato attraverso percorsi eh curricurari il piano è negli anni aspetta ha previsto una serie di eh articoli di bandi articolati in diverse modalità come giustamente lei aveva illustrato nella domanda in particolare sono stati avviate le seguenti azioni principale bandi per le scuole e gli operatori del settore il primo è stato visioni fuori luogo misure destinate alle scuole che prevede la produzione di film corti documentari serie web videogiochi che raccontino il territorio visto dagli occhi degli studenti in particolare nelle aree rischio quale aree periferiche urbane e e zone disagiate buone pratiche rassegna e festival progetti di rassegne festival buone pratiche promossi dagli operatori del settore che favoriscono lo sviluppo della cultura cinematografica audiovisiva nelle scuole cinema scuola lab attività laboratoriali e seminari finalizzate l'apprendimento all'utilizzo del linguaggio cinematografico audiovisivo in funzione educativa formazione specifica operatori di educazione visiva e scuola attività di formazione nazionale rivolte ai docenti delle scuole statali di ogni ordine grato finalizzata all'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore qualità dell'apprendimento questo era stato deciso a suo tempo di farlo proprio per cercare di eh riuscire a dare anche lo stesso servizio la stessa qualità in tutti i territori d'Italia ai ragazzi che fruivano a cercare di non avere delle differenze a seconda dei territori o delle singole sensibilità magari degli insegnanti o chi portava avanti i progetti per i primi due piani nazionali annualità duemila e diciassette duemila e diciotto annualità duemila e diciannove sono stati stanziati complessivamente risorse pari a trentotto milioni di euro nel primo anno di attivazione del piano duemila e diciassette duemila e diciotto per l'insieme dei bandi e delle azioni previste sono state assegnate risorse pari a ventidue virgola sette milioni di euro a fronte di circa ottocento cinquanta candidature sono stati sostenuti circa cinquecento progetti pari al sessanta per cento per un contributo effettivo di ventidue virgola sette milioni di euro gran parte delle proposte progettuali candidate sessantadue per cento riguarda il bando per le attività relative ai progetti afferenti la scuola mentre il restante trentotto per cento delle domande aveva oggi ad oggetto le attività eh relative alle buone pratiche rassegne e festival la richiesta di finanziamento complessiva è stata di gran lunga superiore alle aspettative raggiungendo sessanta virgola cinque milioni di euro con un tasso di finanziamento approvato pari al trentotto virgola attantasette per cento e un importo medio sostenuto al progetto pari a quarantasette mila euro nel dettaglio i contributi erogati sono stati così ripartiti un milione per le misure operatori di educazione visiva e scuola due virgola quattro milioni per cinema scuola duemila e trenta sette virgola sei milioni per cinema scuola lab tre virgola nove milioni per visioni fuori luogo sei virgola otto milioni per buone pratiche rassegne e festival nel secondo anno di attivazione duemila e diciannove sono state assegnate risorse per quattordici virgola quattro milioni di euro sono benvenute oltre mille richieste corrispondenti a un fabbisogno finanziario complessivo di quasi cinquanta milioni di euro dimostrando il crescente interesse da parte del mondo della scuola e dell'associazione attiva nel settore della film education nel dettaglio i contributi erogati sono stati così ripartiti quattro virgola cinque milioni per cinema scuola lab due virgola sette milioni per visioni fuori luogo due milioni per operatori di educazione visiva e scuola quattro virgola uno milioni per buone pratiche rassegne e festival ulteriori risorse sono state stanziate per attività di comunicazione e per attività di monitoraggio assistenza tecnico amministrativa affidate in convenzione alla società in house del mef studiare sviluppo infine sono state assegnate risorse ad hoc in favore dell'istituto luce cine città per il progetto speciale a scuola con fellini per la diffusione dell'opera di federico fellini all'interno del mondo scolastico in occasione del centenario della nascita del regista per quanto riguarda l'ultimo biennio la pandemia e le conseguente chiusura delle scuole ha interrotto la seconda parte dell'anno scolastico duemiladiciannove duemilaventi e l'intero anno scolastico duemilaventi duemilaventuno ciò ha determinato un notevole rallentamento nello svolgimento delle attività finanziate per l'anno scolastico duemiladiciannove duemilaventi con la progressiva riapertura delle scuole e delle sale cinematografiche che sono partner privilegiato di numerosi progetti di educazione all'immagine le attività finanziate potranno aggiungere a conclusione anche in virtù delle deroghe concesse dal ministero rispetto alle tempistiche prefissate con i decreti ministeriali di riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo per gli anni duemilaventi e duemilaventuno sono destinati complessivamente circa trentaquattro milioni di euro al piano nazionale cinema e immagine per la scuola si prevede la pubblicazione dei bandi entro luglio duemilaventuno il nuovo piano ai relativi bandi terranno conto della positiva esperienza degli scorsi anni dando continuità alle azioni che si sono rivelate strumenti utili e efficaci per le scuole e renderle ancora più rispondenti alle necessità formative di docenti e studenti io vorrei aggiungere che come sapete mi è stata data proprio la delega che è concernente anche questa domanda due settimane fa per cui eh questo coletto era la scheda che mi era stata preparata proprio dal dalla direzione cinema mi sto già interfacciando comunque anche per con l'istruzione per poter far partire i bandi abbiamo messo l'uglio speriamo già a fine giugno di averli pronti terremo ovviamente eh in debita considerazione tutte le esperienze che ci sono state prima e cercheremo eh visto che sono stato un po' sperimentazione quelle precedenti di mettere a sistema proprio per arrivare a tutti con lo stesso tipo di formazione e gli stessi servizi poi e concludo avevo visto le dichiarazioni di Favino eh dell'altro giorno come l'audiovisivo e il cinema proprio insegnato all'interno delle scuole come materia io questo lo condivido totalmente e come dico sempre se volete presentare un disegno di legge io lo appoggio totalmente grazie sottosegretario l'onorevole Piccolina Ardelli può replicare prego grazie sottosegretario per l'accuratezza di questa risposta e che è eh assolutamente esauriente eh naturalmente ehm speriamo tutti e contiamo sul fatto che questi nuovi bandi tengano conto così come lei ha detto di quella che è stata la sperimentazione che mi pare sia stata anche esaminata in maniera attenta e e che questo diventi davvero un elemento che possa aiutare le scuole e riprendendo quello che era lo spirito iniziale con cui eh questo provvedimento è stato inserito nella legge sullo spettacolo che è quello di tener conto insieme di come far crescere anche degli spettatori attenti e consapevoli e partecipi quindi credo sia molto importante che lei eh promuova questo tavolo mic mi eh per portare avanti questo progetto che crediamo sia un progetto particolarmente interessante grazie grazie a lei onorevole Piccolina Ardelli passiamo all'interrogazione 5 06 021 Belotti sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'arena di Verona e per il settore musicale illustralato l'onorevole Racchiella prego onorevole grazie presidente un saluto al sottosegretario Lucio Borgonzoni a seguito dell'emergenza da coronavirus dal marzo duemila e venti sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale gli spettacoli di qualsiasi natura tutti noi siamo consapevoli dello stato d'animo e le difficoltà economiche in cui si trovano attori musicisti tecnici eccetera che da un bel po' chiedono di poter tornare in scena finalmente l'arena di Verona ha ottenuto grazie alla conferenza stato regioni la deroga che permette di ospitare eventi fino a 6.000 spettatori 6.000 spettatori su 22.000 sembrano pochi ma sono di vitale importanza un segnale della ripartenza alla normalità l'apertura della stagione è fissata per il 5 giugno prossimo venturo con un concerto evento dedicato al maestro Ennio Morricone considerato che la probabile entrata della regione Veneto in zona bianca con conseguente fine del coprifuoco in anticipo rispetto alla data stimata potrebbe essere il 7 giugno prossimo venturo sempre che la cabina di regia che si riunirà a fine mese non stabilisca ad anticipare rispetto alla data prevista chiediamo quali iniziative il ministro ha intenzione di prendere al fine di sostenere la ripresa degli spettacoli nell'arena di Verona e per tutelare il settore musicale in particolare quello della musica contemporanea grazie grazie onorevole Racchella prego sottosegretario a lei la risposta grazie presidente ringrazio per la domanda e lei ha già la risposta scritta però io eh avendo seguito tutta la questione dell'arena direttamente sia la questione per aumentare il numero delle persone all'interno sia quella legata agli orari eh gliela dico perché ci sono anche degli aggiornamenti di di poco fa come lei giustamente ha detto sull'arena di Verona c'è stata la deroga sul numero di persone che all'interno spettatori che all'interno potranno andare a vedere gli spettacoli si è arrivato rispetto ai mille che erano quelli per eh decreto nazionale eh che venivano concessi ai sei mila questo grazie al lavoro della conferenza delle regioni a sistema sanitario regionale Veneto che ha guardato un protocollo perché voglio ricordare che tutte queste richieste arrivano con protocolli studiati insieme alle università insieme a dei medici il protocollo eh con la richiesta dell'arena di Verona un protocollo da cinquantacinque pagine per cui nei dettagli di di qualunque cosa accada durante la serata poi era subentrato il problema rispetto alla all'apertura della stagione che è il cinque giugno che a oggi anche se sappiamo che fra due settimane verranno eh rivisti e ricontrollati i dati rispetto ai contagi del territorio il Veneto potrebbe essere ancora zona gialla perché entrerebbe in bianca dal sette per quello che sappiamo ora poi probabilmente invece fra due settimane scopriremo che eh entrerà in zona bianca prima insieme a tutti gli altri a inizio del mese prossimo e allora lì è subentrata la questione di poter avere vero essendo questo un un evento anche molto particolare sarà presente la tv americana ci sarà una diretta una diretta Rai per cui anche il messaggio che noi ovviamente mandiamo all'estero essendoci questa diretta Rai verrà chiesto è stato discusso comunque durante il consiglio dei ministri questo l'abbiamo letto anche dalla stampa questo come anche un altro evento è stato messo all'interno del decreto proprio la possibilità di fare deroghe anche in zone che non saranno bianche ricordandoci che comunque fortunatamente la stagione estiva quella teatrale che ci si sta avvicinando vedrà quasi tutto il paese in zona bianca per cui non avremo più il problema della questione del coprifuoco per questo bisognerà chiedere una deroga e ho sentito poco fa il sindaco che sta inviando al ministero una deroga che gireremo a speranza perché il ministero della salute quello che comunque poi dopo deve fare la deroga specifica e già sentito questa mattina insomma non dovrebbero esserci eh problemi nessun tipo di problema su sull'arena per quanto riguarda in generale la questione vabbè gli spettacoli estivi avevo già prima risposto a un'altra domanda per cui ci saranno dei finanziamenti specifici per cercare di sostenere tutte le attività comunque estive per quanto riguarda invece la musica specifico quella contemporanea su cui ci sono stati una serie di interventi già da parte del ministero oltre la questione di quelli già fatti che verranno eh ripetuti all'interno del FUS stiamo disegnando e pensando comunque anche ulteriori interventi specifici per quest'ambito che è stato molto colpito un po' tutti quelli della cultura però quello sicuramente legato ai concerti è stato fortemente colpito dalla pandemia grazie grazie sottosegretario l'onorevole Comencini può replicare prego onorevole sì grazie ringrazio per la risposta sottosegretario Borgonzoni per noi l'arena di Verona io sono eh di quella città è assolutamente importante so che è stato fatto un grande lavoro eh con il sindaco Federico Sboarina e con il governatore Luca Zaya che già l'anno scorso era riuscito in qualche modo a superire la necessità appunto di ampliare i numeri perché eh altrimenti non sta in piedi proprio economicamente l'arena di Verona non ha senso eh che riapra un lavoro importante e le rassicurazioni che ci ha dato sono fondamentali eh sia per la questione appunto della capienza ma anche sulla questione degli orari perché in caso appunto di eh ritorno in giallo ovviamente speriamo di no però eh gli orari per noi sono fondamentali l'arena di Verona deve lavorare e vivere con determinati orari e non può avere queste limitazioni ricordo anche che la Verona di Verona ha un indotto importante quindi non è un teatro non me ne vogliono gli altri qualunque è un teatro che dà un indotto di oltre 1200 lavoratori porta eh migliaia eh e migliaia di persone da tutto il mondo a vedere gli spettacoli eh della lirica solo nel 2018-2019 si parla tra l'altro di 152 milioni di telespettatori quindi è molto seguita anche attraverso questi canali e quindi è fondamentale sostenerla perché poi dà eh lavoro e dà un indotto a ristoranti, bar, hotel e tutto il territorio tra l'altro abbiamo vicino anche il lago di Garda, la Valpolicella, quindi territori dove i turisti arrivano eh perché sono posti bellissimi ma anche perché vogliono andare in arena e godere questi spettacoli quindi sostenere, permettere all'arena di lavorare significa permettere a questo indotto di funzionare e permettere di sostenere un elemento culturale, storico, valoriale, identitario fondamentale per il nostro territorio. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione cinque zero sessanta ventitré Carbonaro sulla segnazione della carta per la cultura. L'onorevole Gallo illustra l'atto. Prego onorevole. Grazie presidente, sottosegretario Borgonzoni. Eh io vorrei sapere che cosa poter dire a Teresa, Giovanni, proprietari dei dei Librai con cui mi sono interfacciato anche a partire dalla dalla prima ondata covid che eh ha previsto le le chiusure e che hanno visto hanno dichiarato si sono dichiarati molto contenti del lavoro fatto da questo Parlamento per la legge sul sul libro, hanno visto un segnale molto positivo, tra l'altro rinforzato durante il decreto rilancio con ulteriori diciassette milioni di interventi per una cardocultura che doveva spingere il settore e allo stesso tempo eh creare un ancora, creare un salvagente anche per per i minori, per le famiglie con minori a rischio perché era una boccata di ossigeno culturale per per una platea abbastanza importante di minori a rischio. Purtroppo nel duemila e venti questo non è accaduto e ad oggi aspettiamo ancora la misura, l'istituzione della card e il e i decreti attuativi e e un chiarimento su quale su su quale esito ha avuto questa questa misura così attesa, così importante, così condivisa da tutto il Parlamento ma in questo momento fermo, fermo nelle stanze del governo. Quindi vi chiedo qual è il l'esito di eh di questo di questo lavoro e e cosa ci dobbiamo aspettare, cosa posso dire a Teresa, Giovanni, a tanti libbrai italiani. Grazie onorevole Gallo, prego sottosegretaria, a lei la parola. Beh diciamo che si può iniziare a dire che questo governo spera di fare tutte le cose più velocemente di quello precedente. Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante relativo alla richiesta di conoscere lo Stato dell'iter di adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo sei comma due della legge quindici del duemila e venti si rappresenta quanto segue. L'articolo sei della legge quindici duemila e venti ha istituito la carta della cultura d'importo pari a cento euro con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri anche digitali nonché di prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del compito del valore dell'ISEE. Ai fini dell'assegnazione della carta nello stato di prevenzione del Ministero della Cultura è stato istituito il fondo carta della cultura con una dotazione di un milione di euro anni a decorrere dal duemila e venti come giustamente aveva detto lei. Integrabile con proventi derivanti da donazioni lasciti o disposizioni testamentali di soggetti privati destinati allo Stato per il conseguimento della finalità del fondo nonché con proventi elargiti dalle imprese. Le modalità applicative sono state definite con decreto interministeriale del 10 febbraio duemila e ventuno numero 73 che in particolare ha disposto che la carta è assegnata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale in possesso ove previsto di permesso di soggiorno in corso di validità appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a quindici mila euro. I beneficiari della carta sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta nei territori indicati annualmente con avviso pubblicato sul sito del centro per libro e la lettura assumendo il criterio degli ISEE dal più basso al più alto. La carta è utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio. In particolare i fondi annualmente disponibili ammontano a sedici milioni di euro per il solo duemila e venti per effetto dell'integrazione disposta dall'articolo centottantatré comma dieci bis del DL trentaquattro duemila e venti che ha aumentato la disponibilità del fondo di quindici milioni di euro per il duemila e venti. Mentre a seguito dell'incremento proposto con l'emendamento parlamentare approvato nel decreto sostegni in senato la disponibilità complessiva per il duemila e ventuno del fondo carta della cultura sarà pari a due milioni di euro. Per l'attuazione della misura in oggetto il ministero della cultura in concerto con il ministero dell'economia e della finanza ha adottato il decreto numero settantatré del dieci febbraio duemila e ventuno recante disposizioni attuative per la carta della cultura prevista dall'articolo sei della legge tredici febbraio duemila e venti numero quindici. Di conseguenza la competente direzione generale biblioteche ha trasferito al centro per il libro e la lettura le risorse finanziarie per gli anni duemila e venti e duemila e ventuno. Circa lo stato di effettiva emissione della carta sono in via di definizione le modalità tecniche tecniche in accordo con Pagopa e Consap S.p.a. Grazie. Grazie sottosegretario. L'onorevole Gallo può replicare. Prego. Grazie sottosegretario. Grazie presidente. Sono soddisfatto del fatto che si stia arrivando alla conclusione di questo iter. Io per ricordare a tutti l'importanza di questa misura cerco di dare un po' di numeri. Nel PNRR la prima versione non c'era un capitolo sulla povertà minorile. Dopo i lavori parlamentari è stato inserito un capitolo della povertà minorile. Questo capitolo parla di interventi per cinquantamila minori in tutta Italia. Quando sappiamo che Save the Children negli ultimi dati del 2019 ci dice che abbiamo un milione e duecentomila minori a rischio. Questa carta con l'importo che lei adesso ha confermato quindi sedici milioni più due milioni sono diciotto milioni e con l'importo di cento euro raggiunge centottantamila famiglie cioè quindi più dei soldi che mettiamo nel PNRR. Quindi questo per dire che la misura importante che il numero su cui dobbiamo intervenire in questo problema se vogliamo associare il riscatto sociale dei cittadini attraverso la cultura dobbiamo fare ancora degli sforzi in più ma questa misura rappresenterebbe sicuramente un importante esempio del del percorso che sta facendo questo Parlamento e quindi anche il governo nell'affrontare con una ispirazione direi eh il tema della povertà educativa e culturale e anche la volontà di occuparsi eh eh dei minori in questo paese e occuparsi così come abbiamo fatto con altre misure l'assegno unico che non voglio qui ricordare però diciamo sicuramente eh trascerebbe una strada importante eh che eh va sostenuta anche perché poi dal punto di vista se andiamo analizzare i dati dei eh del eh i dati delle vendite dei libri eh quest'anno scopriamo che è un settore che ha resistito nonostante il eh il lockdown o nonostante la pandemia e quindi un settore è settore che ha maggior ragione in un momento in cui tutto il settore culturale vive una grossa difficoltà va sostenuto e forse è capace anche di aiutare gli altri settori così come potrebbe essere capace di aiutare anche gli altri settori istituzioni della cardocultura grazie grazie a lei onorevole Gallo passiamo all'ultima interrogazione cinque zero sei zero ventiquattro Fusacchia sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto bellezza recuperiamo i luoghi culturali dimenticati l'onorevole Angiola illustra l'atto prego onorevole sì grazie presidente signor sottosegretario oggi noi di azione più Europa vogliamo sottoporre all'attenzione del governo ecco una discussione che si trascina veramente da tanto tempo non ho difficoltà a definire questo progetto di cui ci accingiamo su cui ci accingiamo a discutere ecco a definirlo misterioso sfuggente e perché no fantomatico il progetto bellezza recuperiamo i luoghi culturali dimenticati uno stanziamento di bilancio che risale ad una delibera cipe del duemilasedici una commissione di valutazione che è stata istituita e ha svolto i suoi lavori nel duemiladiciassette producendo un elenco di 273 progetti ebbene sono passati oltre tre anni i beneficiari del bando non hanno ricevuto alcuna erogazione della prima tranche e inoltre non hanno notizie in merito alla sottoscrizione della commissione per questo motivo notiamo uno stallo veramente gravissimo un ritardo che si è accumulato nel tempo nonostante la successione di diversi governi e quindi ci domandiamo quali siano le misure che il governo intende adottare per garantire in tempi rapidi l'erogazione dei finanziamenti rispetto a tutti gli interventi selezionati grazie presidente grazie a lei prego sottosegretario a lei la parola grazie presidente ringrazio per questa domanda perché anche io mi sono trovata dal conte uno in poi a dover cercare di rispondere capire bene quali fossero i problemi legati alle lentezze rispetto a un bando che sicuramente ha un buono un ottimo fine che però stenta a trovare la soluzione finale stenta a vedere la luce con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante relativo alla richiesta di conoscere i tempi per l'erogazione dei finanziamenti previsti per gli interventi selezionati da progetto bellezza ricubriamo i luoghi di cultura dimenticati si rappresenta quanto segue allo stato sono stati adottati due dpcm che hanno disposto l'ammissione di 42 interventi alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il ministero della cultura in particolare con dpcm 3 settembre 2019 sono stati ammessi a finanziamento 20 progetti per un totale di 11 milioni di euro di finanziamento complessivi ai fini dell'attuazione di tali interventi si è proceduto per ciascuno di essi alla stipula di un apposito disciplinare d'obblighi tra l'autorità di gestione e il beneficiario recante termini condizioni per la realizzazione degli interventi all'erogazione dei finanziamenti a valere sul piano stralcio e la sorveglianza dell'attuazione ad oggi sono stati sottoscritti tutti i disciplinari degli interventi al messi a citato dpcm successivamente l'autorità di gestione ha adottato i decreti di concessione del primo anticipo del finanziamento in favore dei beneficiari che hanno inviato la documentazione prevista dal disciplinare ad oggi in relazione ai venti interventi ammessi è stato erogato un importo complessivo a titolo di anticipazione pari a due virgola due milioni di euro con successivo dpcm undici febbraio duemila e ventuno sono stati emessi alla fase di stipula dei disciplinari alti ventidue progetti per un totale di sedici virgola otto milioni di euro di finanziamento complessivi per tali interventi ad oggi in corso l'iter di stipula dei relativi disciplinari cui seguirà l'erogazione dell'anticipo alla luce di quanto rappresentato il ministero della cultura tempestivamente intrapreso per quanto di propria competenza tutte le necessarie iniziative per garantire i tempi rapidi l'attuazione e l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati nell'ambito del progetto bellezza ricordo e ribadisco infine che l'individuazione degli interventi da attuare in capo alla presidenza del consiglio dei ministri che la fase decisionale di valutazione dei progetti viene svolta dall'apposita commissione per l'attuazione del progetto bellezza incardinata presso la presidenza medesima il ministero della cultura svolge infatti principalmente un ruolo operativo nella fase attuativa dei procedimenti in relazione infine a ulteriori interventi da finanziare sulla base di elementi acquisiti dalla presidenza del consiglio dei ministri risulta che l'esame dei relativi progetti è ad oggi sospeso a causa di una serie di criticità si tratta essenzialmente di mancati invidi documentazioni impossibilità da parte degli enti attuatori di acquisire documenti profili problematici circa interventi avuti ad oggetto beni non di proprietà pubblica e durata delle convenzioni stipulate tra soggetti privati e gli enti attuatori degli interventi questo ministero si rende ovviamente disponibili a individuare con la presidenza del consiglio oggi iniziativa utile per il superamento delle criticità che consentano una rapida attuazione del programma io voglio ribadire come detto all'inizio noi siamo una parte ehm all'interno del processo per questi finanziamenti io credo che forse andrebbe chiamato anche qualcuno che rappresenta i la presidenza per chiedere nella loro parte cosa stanno facendo e cosa impedisce eh e rispetto anche a queste criticità che vengono detti il fatto che questi progetti possano andare a una velocità maggiore perché noi dentro questa commissione abbiamo una persona dentro la commissione per cui forse io questa è la risposta che possa andare però forse andrebbe interrogato anche qualcuno eh alla presidenza grazie grazie sottosegretario onorevole angiola può replicare a lei la parola grazie presidente è del tutto evidente sottosegretario che lei al mio posto si sarebbe come me ritenuto totalmente insoddisfatto della risposta ecco per tanti motivi i primi venti progetti appena lei appena fermato che ehm hanno riguardato due virgola due milioni di euro e sono stati erogati una cifra risibile rispetto all'originario stanziamento dei centocinquanta milioni di euro una seconda tranche di progetti approvati ventidue ecco riguardano sedici virgola otto milioni ma siamo nella fase della stipula della convenzione quindi diciamo sono dati che rispetto ai centocinquanta milioni non dicono niente se non pochissimo siamo nell'ordine del dieci per cento e per giunta non sono stati nemmeno pagati per quanto riguarda il eh rimando ad altre responsabilità io mi sarei aspettato come posso dire un uno sforzo di coordinamento da parte del ministero della cultura visto che si tratta e questa è la parte sostanziale della risposta all'odierna interrogazione di rimandare ad altre responsabilità avremmo potuto chiamare in causa i sottosegretari alla presidenza del consiglio che si sono avvicendati in numero cospicuo da quando è partito questo bando quindi dal duemilasedici non posso non vorrei fare dei nomi ma riguardano anche esponenti che fanno papo che fanno capo al partito che lì qui oggi rappresenta quindi un rimando ad altre responsabilità ecco eh un rimando ad altre responsabilità e un rimando a delle criticità chiare che lei ha enunciato il discorso se si tratta di mancati invidi documentazione impossibilità da parte degli enti attuatori di acquisire documenti la problematica riguardante il bene se è privato pubblico destinatario di questi investimenti insomma abbiamo ricevuto tantissime sollecitazioni e parlavo inizialmente di 237 progetti e onestamente penso che queste sollecitazioni oggi non abbiano ricevuto nessuna risposta se non ecco nessuna risposta in aggiunta alle voci di corridoio che erano già disponibili a favore della stampa erano già disponibili a favore della politica e quindi diciamo queste interrogazioni oggi non appare per niente risolutiva grazie presidente grazie a lei onorevole Angiola dichiaro conclusa la seduta legata alle interrogazioni prego grazie a lei